mister insomma rispetto alla partita di coppa è stato un altro pro settimo casale assolutamente sì direi che beh da allora sono passati forse due mesi anche un po di più abbiamo lavorato nel frattempo qualcuno è andato qualcuno è venuto direi che la squadra sta facendo molto bene anche oggi mi sono piaciuti molto conto sicuramente una squadra comunque di valore con il casale sono molto soddisfatto poi è ovvio che come sempre dovrebbe vincere per essere più soddisfatti al cento per cento però io mi accontento per adesso sono lì in scia e sicuramente più avanti di quanto pensavamo e aspettiamo il mercato vediamo che cosa succede soprattutto nel secondo tempo c'è stato un momento in cui il forcing è stato tale per cui si poteva aspettare che la partita si potesse sbloccare sì direi che dal decimo al trentesimo perlomeno ho visto un ottimo pro settimo palla a terra giocati importanti rapidi belle ripartenze comunque sempre con l'attenzione da dedicare a una squadra importante come il casale non ha presi troppo perché qualche volta anche loro sono ripartiti e insomma non sono mai arrivati fondamentalmente a tirare però ci sono sempre state delle cose che si sono poi magari interrotte sulla nostra trequarta difensiva però comunque io ritengo che fare una partita di questo spessore di questo ritmo su un campo comunque allentato siano da elogiare tutti i miei ragazzi Quanto era importante oggi non subire gol di nuovo e poi ti chiedo sul mercato serve una punta sicuramente forse anche un centrocappista di qualità? Guarda non subire gol è sempre per me la cosa più importante del gioco del calcio perché da lì in avanti può succedere di tutto ma che va alla preservazione come è successo oggi sulla seconda domanda che mi hai fatto ti dico che fondamentalmente mancano cose che mancavano il giorno della Coppa Italia col casale una punta ma non al posto di noi abbiamo purtroppo giochiamo 4-3-3 abbiamo tre giocatori di ruolo dimostrazione che oggi fuori uno dei tre ha giocato un centrocampista Lala che tra l'altro ha fatto un'ottima prestazione secondo me parlo di Sorato quindi manca una punta per allungare la rosa se poi è di qualità ovviamente che è sempre meglio il play stessa situazione abbiamo lì non pecchiamo in lunghezza pecchiamo proprio nel ruolo li ho provati un po' tutti con oggi credo di averli provati tutti tutti fanno bene il compitino però ovvio che comunque è un play che va a prendere la palla il rebolino e la strazione non c'abbiamo il portiere e il centrocampista sono assenti per tanto tempo? parli di Giazzolino e il portiere e il portiere non te lo so dire di preciso perché è uscito alla spalla e di preciso non te lo so dire Giazzolino penso la prima del ritorno non prima non sarà disponibile prima della prima del ritorno ma lui è il play? lui è quello che ho adattato più volte a farlo anche lui non lo è lo fa in quanto con dieci anni ha in più di vita non solo calcistica ma proprio di vita ha un pochettino più di esperienza degli altri però fondamentalmente anche lui non è un play quindi diciamo che magari sta sul campo un filo meglio degli altri per avere qualche presenza in più degli altri però anche lui non è un play fondamentalmente grazie 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 a tutti.